Buonasera mister, complimenti per questa vittoria. Che cosa le è piaciuto di più questa sera della squadra? La grinta con cui l'Inter ha approcciato la partita, l'applicazione in fase difensiva, la gestione del secondo tempo. Insomma le note positive sono tante. Beh, chiaramente una grandissima vittoria di squadra voluta contro un avversario di assoluto valore. La squadra è stata brava quando era il momento, si è difesa tutte insieme. A parte pari inattive che ne abbiamo concesse più del previsto, la squadra si è difesa nel modo giusto senza soffrire più di tanto. Ancora una dimostrazione che non esistono titolari all'Inter, a prescindere da chi gioca la prestazione c'è sempre? Sì, ma io insomma ho detto che ho 23 titolari perché lo penso veramente in queste ultime partite. Non ho potuto cambiare tantissimo perché abbiamo avuto qualche problemino, però tutti i giocatori possono giocare queste partite. Adesso siamo a metà percorso in questa prima fase di Champions, quattro partite giocate su otto. È difficile fare previsioni ancora, ma un mini bilancio? Il mini bilancio è assolutamente ottimo perché abbiamo incontrato anche Manchester City e Arsenal. Dobbiamo continuare così senza guardare la classifica. La classifica poi sappiamo quanto sarà importante anche la differenza a reti e cercheremo dalle prossime due, prima uno in casa e uno fuori, con le due tedesche, di fare due grandi gare. L'ultima cosa, mister. Il Napoli è una partita determinante o solo importante per l'Inter? No, è importante perché si incontrano la prima e la seconda della classifica, quindi sarà un grandissimo match che cercheremo di fare nel miglior modo possibile. Da domani cercheremo di prepararlo cercando di recuperare le nostre energie.